Ben trovati al TG Medesport e ben trovato a Salvatore Geraci, opinionista del Corriere dello Sport. Ciao Salvatore. Ciao Luca. Si parla tanto di questo impegno di lunedì sera a Castellammare di Stabia, soprattutto perché si gioca su una superficie diversa. Si gioca sul sintetico, un Palermo che sul sintetico non ha mai trovato grande feeling. Quest'anno già alla Spezia sconfitta tra l'altro su autogolle. È la prima delle due sconfitte che poi costò la panchina a Gattuso. In tutto questo ci sono anche gli infortunati a recuperare. Non sembra essere proprio una trasferta agevole sul campo dell'ultima in classifica. Mi sa che la settimana è molto molto delicata Salvatore. Sarà una settimana delicata come tante ce ne saranno da qui alla fine. Però non mi si venga a dire che il Palermo ha più problemi di quanto non ne possa avere una squadra come la Juve Stabia. Di problemi ne ha quanti in questo momento. Certo, loro giocano le ultime cartusce della disperazione, però davanti a un Palermo si accontenterebbero come anche di un pareggio. Il Palermo va dall'alto di una forza indiscutibile. è più forte, nettamente più forte. E poi, sai, sono dei professionisti abituati ad allenarsi su terreni in sintetico e a rendere anche lì. Non mi pare che possa essere un attenuante questa qui. Dici l'oro ci sono abituati, noi no. Certo, ma la differenza la fanno altre cose. Con il Palermo che prepara la trasferta di Castellammare di Stabia, un motivo in più dopo questa polemica, in realtà polemica non si poteva definire tra l'Under 21 e il Palermo per Belotti, Belotti probabilmente non sarà rischiato, così come ha detto nei giorni scorsi il direttore dell'area tecnica Giorgio Perinetti. Allora ti chiedo, Di Bala è l'unico attaccante disponibile? Per fortuna del Palermo si è anche sbloccato dopo oltre 400 giorni. E poi lì la scelta è in teoria su Troianiello. Poi non ci dovrebbero essere grosse sorprese. Ma grosse sorprese no. Tu che cosa puoi immaginare? Che giochi anche Vasquez, per esempio, che possa giocare Stefanovic, ma non mi pare che Stefanovic ormai ha un suo inserimento in squadra e quindi, caso mai, diventa ancora incredibile che venga lasciato fuori al posto di Pisano. Questo non ha giocato mai fuori casa nemmeno un minuto con Iachini. Quindi è una storia che continua a ripetersi e potrebbe ripetersi anche contro la Juve Stabia. Però, sai, se gioca Troianiello, gioca uno che era stato preso qui per fare la differenza, gioca a Vasquez, è uno che ha una sua quotazione. Se non giocano loro c'è Malele, c'è in balo in teoria pure. E quindi, sai, Palermo è ricco, per fortuna, di giocatori che possano sostituire qualche infortunato o qualche squalificato. Andiamo su trmweb.it con le notizie sul sito, sulla sezione sport del nostro sito. E allora, sempre in Serie B, restiamo con le parole del centrocampista delle Trapani, Simone Rizzato, che avverte questa col Siena potrebbe essere la prova del 9 per il Trapani. Loro hanno grande esperienza, hanno anche giovani interessanti. Noi però dobbiamo dimostrare di potercela giocare con qualsiasi squadra. Nel Catania, invece, recupera Barrientos e rientra anche Bergessio, probabilmente contro il Cagliari. Sono delle buone notizie per Rolando Maran con la spinta anche del giovane terzino-sinistro Cristiano Biraghi. Sicuramente è un ruolo che mi piace e che, tra virgolette, anche mi appartiene. Ci sono delle partite dove magari si ha più possibilità di spinta e delle partite dove si ha meno possibilità di spinta e purtroppo meno possibilità di aiutare il reparto offensivo che erano, tra virgolette, un po' soli a fare la guerra contro i tre difensori del genere. Però le partite sono tutte diverse, perciò anche da questo punto di vista io, personalmente, ma come squadra in generale farò le mie valutazioni e prenderò insieme all'allenatore e prenderò sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi per cercare di migliorarli. Dobbiamo vincere perché noi sappiamo che da qui alla fine, a prescindere dalla vittoria che se vinceremo sabato noi sappiamo che sia in caso di vittoria che di sconfitta sappiamo che fino alla fine, fino all'ultima giornata ci sarà da lottare e faremo tra virgolette la guerra con queste 4-5 squadre e sappiamo che da qui alla fine ogni partita per noi è una finale e che ogni partita diciamo che ogni fine partita sappiamo che una se ne è andata e ne mancano sempre di meno perciò dobbiamo cercare di fare più punti possibili e cercare di uscire da questa situazione ma ormai penso che questa situazione diciamo di lottare ogni partita e di fare la guerra ogni partita guardando anche le altre sarà fino all'ultima giornata. Commentiamo la situazione delle Catania. Adesso ci sono due partite Cagliari e Sassuolo poi ci sarà la Juventus in teoria sono i bonus di Maran. La situazione non è quella di poter considerare che il Catania possa fare un calendario delle sue partite e decidere dove e come prendere i punti. Il Catania come si dice abitualmente ma stavolta è la verità deve giocare partita per partita e tirare il meglio da da quello scontro tirare il meglio e dare il meglio se non recupera questa sua freschezza mentale agonistica è davvero finita quindi sai una partita vale l'altra a questo punto. Grazie a Salvatore Geraci con te abbiamo chiuso la pagina dedicata al calcio ciao Salvatore grazie a voi arrivederci apriamo quella della palla a volo si torna a giocare in B2 femminile con l'Andros Palermo che affronta il Pedara una delle candidate alla promozione finale dopo il turno di riposo e soprattutto dopo l'ultima vittoria adesso sono sempre otto i punti di vantaggio dal penultimo posto occupato dal Pizzo e dunque ultimo posto per la retrocessione adesso ne parliamo con il tecnico Giancarlo Caccamo e con la paleggiatrice Serena Puleo Noi ci stiamo allenando al meglio perché contiamo appunto di fare bene contro questa squadra anche se sulla carta diciamo loro in classifica sono messe meglio di noi sono terze però ci stiamo allenando con la giusta grinta e speriamo di fare bene sicuramente meglio dell'andata noi cerchiamo di fare il nostro gioco cerchiamo di allenarci bene poi quando la partita si vedrà andando giocando bene cercheremo di 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 metterle in difficoltà con i nostri punti forti continuiamo di fare bene anche sfruttando tutte le partite che ora abbiamo in casa e e niente con la giusta determinazione ce la possiamo giocare con chiunque dobbiamo scendere in campo convinte di poterlo fare la partita dell'andata è stata devo dire una gran bella partita forse la prima partita giocata bene da parte della mia squadra anche se abbiamo portato via soltanto un punto una squadra comunque che abbiamo contenuto bene nonostante le bocchie di fuoco siano davvero di altra categoria ci stiamo preparando per comunque affrontare questa squadra nella maniera più più consona possibile per portare i tre punti dentro e arrivare alla quarta vittoria consecutiva che non sarebbe una sarebbe una gran bella cosa per noi certo ogni vittoria aiuta la classifica aiuta il morale quindi prima arrivano i punti necessari alla salvezza e meglio è anche se devo dire siamo messi adesso in maniera buona in classifica abbiamo diverse squadre sotto e tutti gli sconti diretti li abbiamo in casa quindi comincia a diventare una classifica più più consona a quello che erano le aspettative all'inizio del campionato certo è una squadra comunque una partita difficile non ci tiriamo indietro comunque abbiamo giocato con altre squadre di un certo livello e abbiamo giocato quasi sempre alla pari in casa quindi perché non provare anche se ripeto abbiamo qualche problemino fisico da parte di qualcuno ma senza nessun timore verso nessuno o verso nessuna squadra verso nessuna giocatrice andremo in campo e ce la metteremo tutta per portare i tre punti dentro vi ricordo che tutte le edizioni del Tgmedesport le potrete rivedere sul sito trmweb.it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi e arrivederci panificio Badalamenti infinite specialità da gustare arancine un euro pizze familiari a soli 5 euro panificio Badalamenti panificio rosticceria pizzeria dolci classici e moderni panificio Badalamenti sacca tubana un timipenti via Francesco Crispi numero 290 a Palermo infoline 388 9088 192 Grazie a tutti